Abiti in Veneto e sei rientrato nella graduatoria del bando Veneto 2024 dove tra conto termico e la regione Veneto puoi ottenere tra il 90 e il 100% di rimborso direttamente all'interno del tuo conto corrente. Però adesso sei all'interno della graduatoria ma non sai a chi affidare il tuo intervento per poter ottenere questi contributi. Beh siamo qua a San Paolo di Piave provincia di Treviso dove si sta realizzando un intervento di questo tipo con caldaia pellet autopulente però entriamo dentro ne parliamo perché qua sta diluviano. Ti ho portato direttamente all'interno della sala termica dove in questo caso si installa questa tipologia di caldaia pellet 5 stelle caricatore da 220 kg tutto autopulente con canna fumaria solare termico e puffer. Questa della caldaia pellet autopulente è una soluzione ma anche le caldaie a legna a fiamma inversa godono di questi contributi ma devi sapere che la regione ha dato un tempo limite per chiudere i lavori e chiudere la burocrazia quindi non perdere tempo i contributi sono veramente tanti. Ti veniamo in aiuto come? Clicca nel tasto qui sotto o nel link che trovi in descrizione compila velocemente il modello di preanalisi e vedremo con te in tempi rapidi se la biomassa è la miglior soluzione per te e se hai diritto a questi fantastici contributi. Mi raccomando non perderti questa occasione ci vediamo ciao